Allora, mi chiamo Maximilien Dejois, sono un regista, ma anche sceneggiatore e direttore della fotografia. Ho diretto alcuni film, in realtà ho diretto tre film. Il primo si chiama The Gerber Syndrome ed è un film del 2011, uscito nel 2013. In Italia si trova su Amazon Prime. Era un mockumentary, vale a dire un finto documentario su un'epidemia inventata, anche se poi con l'avvento del covid certe cose che io all'epoca mi ero inventato di sana pianta si sono poi tramutate in realtà, tristemente. Ed è un film che insomma che all'epoca girò abbastanza, è stato distribuito in più di 40 paesi, è stato presentato in festival, insomma, la prima mondiale fu a Londra, poi è stato presentato in tanti festival in Italia, in Lituania, in Indonesia, negli Stati Uniti, insomma, ha girato un po'. E vinse anche qualche premio, a Torino anche, tra l'altro, vinse il Toro, il Film Festival. Dopodiché mi sono spostato più sul documentario, ho codiretto due lungometraggi con Virginia Varichita, che è una regista lituana, entrambi girati in Lituania, che è un paese in cui ho vissuto per un po' di anni. Il primo era sul KGB, sugli effetti che il KGB, quindi i servizi segreti sovietici, ebbero sulla popolazione, quindi storie di vita vissute. È un film che mi ha toccato molto e che mi ha fatto scoprire dei mondi che non conoscevo. E poi l'ultimo, che è uscito nel 2021, che è anche girato in Lituania ed era un documentario sulla prevenzione dei suicidi, che purtroppo è un problema che in Lituania è molto presente. Malgrado l'argomento, che non è certo leggero o semplice, però mi piace pensare che il film era comunque un film molto solare, molto luminoso, una bella storia di amicizia, pieno di speranza. E infatti questo secondo me è passato un po' al pubblico. Infatti il film è forse il film che ho fatto che ha avuto maggior successo, perché è stato in più di 30 festival nel mondo, abbiamo fatto una tour negli Stati Uniti, ha vinto dei premi in Italia, ha vinto di nuovo a Torino, è stato presentato a Trieste, a Torino, a Ischia, in Polonia, in Francia, in Georgia, insomma, ha girato un bel po'. E dopodiché ho iniziato a lavorare su un progetto, su cui lavoro da quasi cinque anni, questa volta è un film di finzione, non più documentario, che si chiama Ting, ed è un dramma storico a tinte dark, ambientato nel 1918, la storia di una ragazzina adolescente che si ritrova con il suo fratello piccolo a dover sopravvivere in un mondo, insomma, sul finire della Prima Guerra Mondiale durante la pandemia di influenza spagnola e diventa amica di questo mostro che lei vede illustrato nelle lettere scritte dal fronte da suo padre, mostro che all'inizio la aiuta un po' a superare il suo trauma e a sopravvivere in queste circostanze molto drammatiche, ma che poi diventa, insomma, nel corso della storia questo mostro in realtà non è poi così amichevole come sembra all'inizio. Ed è una coproduzione tra Italia e Inghilterra, è un progetto complicato che richiede tempo, ma se tutto va bene l'anno prossimo forse riusciremo a realizzarlo. Io ho iniziato a fare questa, insomma, passione, ma che poi è diventato un mestiere quando ero molto piccolo, quando avevo 8-9 anni, e tutto quello che so fare non so fare altro, anche se è importante essere un po' poliedrici, quindi negli anni ho fatto il montatore, ho fatto il cameraman, il direttore a fotografia, lo sceneggiatore, è importante essere un po' poliedrici perché, prima perché ti permette di lavorare in più ambiti, che fa sempre comodo, e poi perché in quanto regista avere un po' un'inforinatura di quello che fanno anche gli altri ti rende più facile la collaborazione, quindi dirigere diventa più semplice perché sai di che cosa parli invece di trasmettere dei concetti astratti, riesci ad essere più concreto nello spiegare quello che tu vuoi ottenere in quanto regista nel fare una scena. Nella mia vita ho avuto una grandissima influenza un luogo, che era una videoteca, che ho iniziato a frequentare quando avevo 6-7 anni, e che poi quando ero al liceo è stata rilevata da Alessandro Baratto, che è il creatore di questo canale YouTube, e Al e io siamo diventati amici quando io frequentavo quella videoteca a quell'epoca lì e lui mi diede carta bianca per prendere tutti i film che volevo senza pagare perché sapeva che io volevo fare quel mestiere lì e quindi gli sono eternamente grato perché fu un gesto molto generoso, io avevo 17 anni, quindi potermi permettere qualsiasi film che volevo e sicuramente ha avuto un grande impatto positivo sulla mia crescita artistica. E poi lui quando ha deciso di diventare un operatore e lavorare in televisione, insomma, mi piace credere di aver avuto una piccola influenza in questa sua decisione e questo mi rende molto orgoglioso.